Nell'ambito dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, organizzati dalla questura del VCO, nello scorso weekend, sono stati predisposti 15 posti di controllo lungo le principali arterie stradali in ingresso ed in uscita dal territorio di Verbania, non che lungo la SS 34, dal comune di Giffa fino al confine di Stato. Sono stati anche effettuati mirati controlli in esercizi pubblici della città di Verbania. Cercalo in programmi!